benvenuti a questa edizione speciale dedicata alla fondazione francesca pirozzi onlus siamo qui con marco pirozzi marco intanto ti so bello impegnato in questi giorni per una maratona molto significativa raccontaci un po questi 30 giorni che stai dedicando ad una speciale raccolta fondi sì abbiamo presentato il 26 di marzo i risultati della ricerca abbiamo portato in pubblico quello che era lavoro che i ricercatori stavano facendo da da qualche anno ricerca di cosa marco stiamo finanziando un progetto di ricerca oncologica all'università di urbino dipartimento di biologia molecolare di fano la cosa iniziata qualche anno fa e abbiamo fatto uscire dal cassetto un progetto che era lì fermo perché mancavano i fondi e gli abbiamo dato vita quindi è la cosa è partita e il 26 di marzo abbiamo reso pubblici i risultati abbiamo un evento affano anche moltissimo partecipato in cui abbiamo visto intervenire proprio i ricercatori che hanno un po raccontato con il loro linguaggio anche più tecnico ma volendone un po parlare così col pubblico da casa con la gente che si chiede cosa c'è dietro questi anni di lavoro della fondazione pirozzi per sostenere la ricerca cosa si è intuito cosa si vuole finanziare e sostenere noi quando abbiamo iniziato a lavorare con loro abbiamo fatto l'accordo loro ci hanno fatto un progetto molto dettagliato che prevedeva degli step dopo la pandemia diciamo che abbiamo rallentato un attimo i tempi però diciamo che siamo riusciti a fare comunque grandi passi avanti e l'obiettivo era arrivare a capire se le loro molecole che di studio potessero essere in vari passaggi portate a una sperimentazione clinica il 26 alla presenza poi dell'istituto superiore della sanità dell'istat di alcuni funzionari del ministro della salute ci abbiamo voluto essere armati di più persone cioè di non raccontarci alla fra di noi hanno mostrato in modo tecnico gli step e quindi tutto quello che è successo dopo la sperimentazione in vitro oggi siamo pronti per la preclinica e questa sperimentazione che cosa riguarda in quale settore allora in realtà riguarda le malattie tumorali in generale perché poi in realtà ci sono poi sono loro che parlano con un linguaggio più tecnico io li vado a trovare tutte le settimane mi raccontano ma poi è chiaro che io non è il mio mestiere però ci sono linee diverse di malattie tumorali diciamo che adesso hanno avuto delle risposte molto importanti ad esempio su alcune linee di leucemie su alcuni tipo tipologie di tumori solidi per cui in realtà è più su più tipologie diciamo di malattie tumorali quindi ricerca oncologica ricerca e cosa succede in questi trenta giorni perché trenta giorni io a gennaio in uno dei miei giri che ho fatto con i ricercatori e un giorno li ho visti particolarmente felici e sembravano dei ragazzini che avevano trovato hanno fatto l'esperimento come era riuscito e mai come quel giorno ho capito che volevano raccontare le cose perché prima sono sempre stati molto resti molto attenti i ricercatori cioè uno più uno deve fare esattamente due e sempre per cui c'era questa attenzione in questi anni loro hanno pubblicato grazie al finanziamento e agli stati di avanzamento tante volte dei risultati su riviste scientifiche quindi l'insieme di queste cose il riscontro da altri ricercatori eccetera eccetera hanno detto è ora di raccontarlo e da lì ho preso la pala al base e ho detto bene raccontiamolo in modo pubblico per fare cosa perché poi l'obiettivo era non era tanto raccontarcela appunto era poter capire e la cosa che io uso sempre un linguaggio mio perché non è scientifico è dire cosa facciamo adesso cosa serve quindi i due step per me da fare ieri per loro hanno dei tempi sono uno potere andare in preclinica quindi capire se tutto quello che è successo adesso in laboratorio può dare gli stessi risultati e successivamente potere ragionare in termini clinici quindi avvicinarsi al malato per fare questo servono dei fondi Marco ma allora questo è uno spazio veramente dedicato proprio per poter coinvolgere con noi altri altri che vogliano sostenere quest'idea al fondo tu stai chiedendo di correre di anticipare di giocare di pensiero prospettico per poter arrivare il più possibile proprio questa sperimentazione preclinica e quindi oggi ti posso anche chiedere magari qual è il tuo obiettivo dove stai guardando qual è l'importo che occorre per poter arrivare a quella a quella soglia dove ci dobbiamo impegnare tutti il lavoro che abbiamo fatto fino adesso con la fondazione è stato possibile grazie a piccole goccioline la vendita del libro dei pixel qualche opera d'arte piccole donazioni cioè è stato un lavoro molto diluito in questo modo e ha coinvolto tantissima gente perché per me come dico sempre un mi piace o un euro sono comunque due segnali di persone vicine adesso per accelerare abbiamo bisogno di una marcia in più cioè di avere magari qualche azienda qualche imprenditore qualche ente qualcuno che prende a cuore la cosa e ne ha vista la la bontà cioè siamo stati trasparenti dall'inizio ma se uno volesse capire meglio rispetto magari anche alla ai risultati e dove siete arrivati c'è un luogo che si può consultare sai ultimamente si sta sempre attenti quando è il momento di finanziare qualcosa avete potuto documentare e raccontare gli esiti di questi primi lavori fatti insieme dove si possono guardare queste informazioni? Allora sul sito della fondazione fondazione pirozi.it c'è raccontato il progetto e ci sono raccontati vari step delle cose tra l'altro nell'evento del 26 abbiamo anche tutta una serie di documentazioni video che sono a disposizione sul sito dove i ricercatori raccontano in modo più tecnico le cose poi come sempre noi siamo stati dall'inizio trasparenti noi abbiamo le pubblicazioni scientifiche che hanno fatto abbiamo tutta una serie di report che ovviamente diamo e forniamo se qualcuno ce li chiede quindi i 30 giorni che mi chiedevi prima sono un obiettivo che ci siamo dati per arrivare a una data magica che è il 9 maggio perché ha sempre un riscontro importante per poter dire è una grande scommessa probabilmente non arriveremo alla somma finale ma probabilmente ci potremo avvicinare perché vorrei poter dare ai ricercatori questa spinta per andare avanti durante la giornata del 26 che io c'ero dietro come sempre pensiamo un po la regia di questa cosa ho fatto un piccolo intervento solo e raccontavo un aneddoto io sono mantovano di origine dove in realtà la battuta era siamo siamo sono cresciuto a suon di no no sei troppo piccolo no non hai ben i soldi no la roba si fa in città non in campagna eccetera 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 poi in realtà questi no nella vita li ho trasformati in sì anzi oggi per me è più stimolante quando uno mi dice no perché poi cerco di impegnarmi a a fare andare avanti e così è stato un po in tutta l'avventura della fondazione tu lo ricordi quando abbiamo pubblicato il libro però adesso ti fermo perché proprio su questo veramente vorrei che poi centriamo veramente in maniera più approfondita perché noi abbiamo iniziato questo nostro scambio un po dando per scontate tante cose perché di fatto per noi per il territorio ma anche per proprio per tutto il sistema Italia si è diventato un punto di riferimento è quasi interessante pensare che noi ragioniamo di una ricerca scientifica che può avere veramente risvolti su la popolazione nazionale mondiale eccetera eccetera e tutta questa cosa parte dalla provincia parte da qui da questo territorio sembra quasi fatta apposta e quindi prima ti spingevo un po a dirci anche le cifre perché a volte uno pensa che la ricerca chi lo sa quanto costa è raggiungibile invece tu nei piccoli passi c'è dimostrato che questa cosa è possibile in questi anni quanto è raccolto quanto è già raccolto mi allaccio a questa cosa è così completo di cosa stavo facendo io penso che noi siamo la fondazione più piccola che c'è al mondo stiamo finanziando forse il progetto di ricerca della dell'università ma in realtà della cantina dell'università più piccola cioè in realtà stiamo facendo veramente delle cose grandissime dal piccolo il concetto del noi era non vorrei che questa cosa non funzionasse perché non ci sono i soldi cioè che alla fine è la cosa più facile quando ho iniziato l'avventura che io non volevo dare i soldi alla ricerca così a caso e ho trovato i ricercatori ci siamo annusati piaciuti per me l'università era l'interlocutore importante istituzionale e mi hanno fatto un progetto con degli step e poi a un certo punto ho chiesto ma quanti soldi serve per poter fare questa cosa e mi aspettavo nel mio aspetto cifre mostruose e in realtà la cifra che è uscita era ma più o meno 150 mila euro che era la cosa per me alla portata incredibile per cui per questo che dico è facile e noi siamo riusciti il famoso libro nell'arco di pochi mesi siamo riusciti a dare la prima tranche poi in questi anni ci abbiamo aggiunto delle cose perché abbiamo opzionato l'acquisto dei brevetti stiamo pagando i brevetti cioè abbiamo aggiunto i valori per cui la cosa è cresciuta e è aumentata in termini economici però per fare questa step per tornare alla domanda che mi facevi se riuscissimo a mettere sul tavolo veramente nell'arco di pochissimo 50-60 mila euro sarebbero sufficienti per poter capire se il lavoro fatto fino adesso può in preclinica dare gli stessi risultati poi è chiaro che se li dà e siamo fortunati acceleriamo ancora il preclinico non è finito però saremo sulla buona strada si va di step in step comunque pensare che 50-60 mila euro consentono di avvicinare una cosa che uno di solito considera lontana di altri succede ad altri eccetera eccetera invece pensare che noi possiamo contribuire ad un passo verso lo sviluppo di qualcosa che riguarda il bene comune è una cosa veramente incredibile e quindi Marco io a questo punto ti faccio fare un passo un pochino indietro anche perché credo che chi ci sta anche ascoltandosi e magari non conosce proprio perfettamente tutta la storia della fondazione Pirozzi si sta chiedendo perché quest'uomo è così impegnato perché quest'uomo ci sta mettendo tanti anni perché la fondazione ha già cinque anni di storia vado a memoria si la fondazione è stata costituita nel 2017 un anno dopo che è morta Francesca che è morta nel 2016 è stata costituita perché la molla, la scintilla è stata l'università di Modena che ha conferito a Francesca una laurea alla memoria cioè da lì se per un anno il nostro sport è stato piangere Francesca che era tua figlia e che purtroppo è venuta a mancare all'età di 24 anni a causa di un linfoma e quindi tu ti sei trovato di fronte a questo enorme dolore ad una telefonata di un'università perché? Cos'era successo? mi ha chiamato all'università chiedendo se eravamo contenti che l'università desse un riconoscimento a Francesca e quindi una laurea alla memoria perché lei aveva nell'anno di malattia, perché è durata un anno la sua malattia completato gli esami che l'università faceva? faceva un corso di erboristeria in una città di Modena, di farmacia di Modena e aveva poi trasformato la sua tesi su alimentazione in chemioterapia quindi aveva cambiato quello che era il suo progetto iniziale su quello che stava vivendo sulla sua pelle la tesi l'aveva consegnata poi l'obiettivo era discuterla nell'autunno ma poi purtroppo non è riuscita a discuterla e un anno dopo l'università ci ha chiamato con questa cosa e ci ha chiamato a questa cerimonia molto particolare tra l'altro in una data molto particolare e ritorniamo a questo famoso 9 maggio che per te è sempre così significativo anche allora era il 9 maggio del 2017 dove è stata conferita una laurea alla memoria nel giorno del suo compleanno ma loro non lo sapevano è stata una casualità incredibile è da lì che la metafora è come se un po' si fossero aperte le finestre cominciassimo a vedere una luce e abbiamo detto facciamo qualcosa di utile quindi abbiamo preso la tesi di Francesca perché ce l'hanno consegnata a loro cioè di solito ci hanno dato questa coppia relegata e quindi ho visto quello che Francesca faceva nel letto ospedale ho preso un po' di nutrizionisti, medici, esperti per capire se tutto funzionava era corretto quello che aveva fatto poi per dare un valore aggiunto ho coinvolto degli chef stellati e da lì è nato il cibo ideale che è stato il primo strumento per iniziare questo percorso di fare delle cose utili quindi era un libro dedicato ai malati oncologici per l'alimentazione dei malati oncologici ripescando anche pezzi della tesi di Francesca sì, in realtà c'era la tesi di Francesca che era l'elemento fondamentale legato alla malattia oncologica ma tutto il resto dei contenuti erano sì utili per il malato oncologico ma utili per una sana alimentazione infatti noi della sana alimentazione ne abbiamo fatto poi un cavallo di battaglia noi per gli anni successivi ma ancora oggi abbiamo fatto iniziative e eventi legati alla sana alimentazione senti, ma la tua è proprio una storia di resilienza al fondo sono termini che si utilizzano tanto però poi quando uno pensa alle storie personali che uno dice eravamo lì, il nostro sport era piangere e abbiamo invece investiti di un bene come l'attenzione dell'Ateneo nei confronti della nostra famiglia e del lavoro che aveva fatto Francesca anche noi abbiamo proseguito e quindi come ti senti questa parola resiliente su di te? te la senti calzante? io la dico in un modo meno cioè in realtà tutta questa è una grande scusa per parlare di Francesca tutti i giorni cioè questo è il motore che penso ci abbia mosso da allora e mi sembra ancora strano cioè delle volte magari ho fatto interviste, cose, eventi e mi sembra quasi di ritornare a casa e tornare Francesca e di lì oggi abbiamo fatto questo per cui Francesca è molto presente in questo aspetto poi abbiamo preso una cosa che lei non l'ha mai detto ma comunque era una cosa che stava attorno a lei che era il concetto dell'utile cioè lei faceva delle cose per gli altri era attenta molto agli altri quindi diciamo che in tutto questo percorso con la fondazione l'idea era di fare cose utili quindi ancora una volta in memoria di Francesca Senti ma siccome Francesca ha un padre così eccezionale anche così vulcanico in maniera sintetica perché se non so che potresti parlare veramente le ore ci racconti tutte le cose che ti sei inventato in questo periodo per cercare di raccogliere fondi e di contribuire il più possibile a questo progetto coinvolgendo con te altre persone perché comunque prima parlavi di aziende, di realtà e quindi ti do anche questo spazio proprio per poterci raccontare ma quante anche Signore Maria che ti hanno aiutato proprio in questa ricerca ci racconti proprio così tutto quello che un po' ti sei inventato per arrivare alle persone per poter raccontare proprio di queste iniziative, di questa possibilità Allora, la prima cosa è stata il libro che abbiamo pubblicato con grande fatica perché poi nonostante ci fossero nomi importanti gli editori hanno delle dinamiche altre quindi abbiamo detto bene, lo facciamo noi quindi ce lo siamo fatti, ce lo siamo distribuiti e abbiamo cominciato a girare l'Italia e lì ho cominciato a avere a che fare con come dicevi tu, le Signore Maria con tutta una serie di persone che erano attente alla sana alimentazione o alla storia in qualche modo avevano avuto qualche cosa legata alla malattia tumorale quindi erano attratte mi ricordo la primissima volta che ho presentato il libro che alla fine della presentazione c'era una serie di persone in fila e dicevo, perché in fila? perché queste volevano l'autografo sul libro e io non ero preparato a questa cosa perché per me il libro era il libro di Francesca quindi non ero io autorizzato a fare l'autografo e ho cominciato a fare questo quindi ho cominciato a parlare con le persone dal libro poi abbiamo preso l'immagine di copertina e abbiamo, per raggiungere i famosi 150 mila euro di cui parlavo prima, abbiamo detto bene, dividiamo l'immagine della copertina in 150 mila pixel e vendiamo i pixel per cui un processo che è partito allora e continua ad andare ancora oggi per cui è possibile appropriarsi di un pixel con un euro si compra un pixel da un piccolo contributo a questa cosa noi in termini di gestione per noi è costosissimo perché vuol dire fare la ricevuta fare, facciamo un certificato d'acquisto una sorta di di proprietà di proprietà del pixel però ci piace farlo perché è un bel gioco poi i pixel qualcuno ha cominciato a regalargli agli altri poi abbiamo coinvolto degli artisti abbiamo fatto un'asta di opere d'arte quindi artisti che ci hanno ma com'è nata questa roba degli artisti? scusami è nata casualmente diciamo che con la scusa del pixel il disegno della copertina fatta da un artista da Vito Nucci del territorio da lì abbiamo cominciato a dire gli artisti perché no abbiamo sparso la voce e ci siamo trovati con una cinquantina di opere d'arte che abbiamo messo in vendita quindi è stato un altro elemento poi abbiamo avuto la pandemia che ci ha un po' rallentato i piani perché avevamo cominciato a girare l'Italia nei teatri dove portavamo i nostri ricercatori i vari esperti nutrizionisti a parlare di sana alimentazione in mezzo alla gente e lì abbiamo coinvolto qualche azienda sponsor che ci ha aiutato nel percorso e a ogni volta per noi era conoscere persone persone che si interessavano a noi e per mille motivi ci davano un piccolo contributo recentissimamente un aneddoto che mi piace un giorno ricevo la richiesta di acquisto di un'opera d'arte chiamo l'interlocutore l'acquirente ma perché lo facciamo sempre noi chiamiamo tutti tra l'altro gente che ci chiama al telefono quindi ancora oggi è possibile trovare alcune opere d'arte disponibili e in vendita sul tuo portale e allora ho chiamato questo signore per chiedergli come mai aveva comprato questa cosa e mi ha detto che era una piccola associazione culturale di Napoli che avevano deciso di fare un'opera di bene di dare un po' di fondi a qualcosa però hanno detto se noi diamo il nostro piccolo contributo alle grandi realtà che raccolgono fondi probabilmente lo perdono cerchiamo una piccola realtà e per una serie di coincidenze è arrivata a noi e quindi ecco viviamo di queste piccole cose cioè proprio occasioni attimi momenti e quindi di fatto questa è anche un po' la la chiamata immagino che per ciascuno è oggi sentire te parlare perché di fatto ognuno col suo contributo anche con la sua idea ti potrebbe anche scrivere per dirti un'idea può sicuramente arrivare insieme a te a raggiungimento e a voi della fondazione a raggiungimento di questo obiettivo vado su una cosa un po' personale però pensavo mentre parlavi che da qualche mese però una nuova Francesca è entrata nella tua vita chi è Francesca questa nuova Francesca nella vita di Marco Pirozzi? beh io ho un'altra figlia ho un'altra figlia che è Ottavia che che era la sorella di Francesca e è diventata mamma lei auguri ad Ottavia e ha fatto questa scelta molto particolare ovviamente ci ha emozionato tutti di chiamare sua figlia Francesca per cui in realtà in casa abbiamo una nuova Francesca che da chiamare coccolare che anima la famiglia ma senti ma proprio questa cosa no? perché si fa un gran parlare negli ultimi tempi e grazie al cielo di sostenibilità che poi se uno va a guardare al fondo che cos'è la sostenibilità è proprio questo sguardo alle future generazioni e tu adesso c'hai in famiglia da nonno questo fagottino da guardare che si chiama ancora Francesca cosa ti auguri per lei e per è per tutti per le nuove generazioni ma guarda su questa su questa cosa in realtà non so se è una domanda che hai fatto apposta per provocarmi per farmi tirare fuori una un'idea diversa in realtà stiamo lavorando a un progetto nuovo perché e poi me ne invento una ogni giorno ogni giorno e stiamo lavorando a una un'idea di una serie televisiva da portare a livello nazionale dove ancora una volta il tema è il cibo ma non tanto il cibo in termini di nutrizione mangia di più mangia di meno eccetera ma in termini di sostenibilità di impatto economico eccetera e l'idea è di farlo proprio pensando alla nuova Francesca dire ma come sarà il futuro cosa succederà se andiamo avanti in questo modo qual è un'immagine e quindi stiamo mettendo a punto una conduzione e per andare a parlare di cibo come se fosse un ragazzino di oggi che ne parla con i grandi con gli esperti di economia di storia di religione e quindi c'è in ballo questa cosa che sarà una probabilmente una produzione per dei prossimi mesi una delle nuove una nuova idea legata a Marco e a tutta la tua opera Marco io ti ringrazio ripuntando però sul punto da cui siamo partiti abbiamo una maratona abbiamo pochi giorni che ci dividono da questa data del 9 maggio che è il compleanno di Francesca e vogliamo festeggiarlo con un obiettivo quindi un po' adesso ti lascio lo spazio per fare la tua ultima colla alle persone che ci stanno seguendo per chiedere proprio un sostegno rispetto alla tua iniziativa sì sì televisivamente dicono che devo guardare la telecamera quindi sul sito della fondazione fondazione pierozzi.it abbiamo in modo facile con due click dato la possibilità a chiunque di entrare e fare una micro donazione o quello che vuole insomma e formalizzare immediatamente c'è un contatore che mostra appunto quello che sta la donazione che viene fatta quindi tutti possiamo guardare quasi tutte le mattine e vedere a che punto siamo di questo grandissimo obiettivo che abbiamo che è piccolo e raggiungibile perché la cosa bella è che gli obiettivi devono essere anche un po' raggiungibili quindi si raggiungono per guardare poi il passo successivo per cui come dico allora quella è una strada e mi piace anche per le piccole cose lo dicevo prima basta un euro per fare un micro segnale perché in tanti con un euro raggiungiamo l'obiettivo poi è chiaro che se c'è qualche azienda qualche imprenditore chiunque che per qualsiasi motivo vuole contattarci vuole inventarsi con noi qualcosa io poi di invenzione sono il re molto volentieri per rendere concreta mi piacerebbe che la cosa fosse del territorio perché alla fine la fondazione è nel territorio la ricerca è nel territorio e non mi dispiacerebbe che magari a raggiungimento qualche azienda del territorio dica anch'io ho contribuito a una cosa mia reale e concreta bene allora buona maratona a Marco e buona maratona a tutti noi insieme con lui grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti